Io sono, come dire, un privilegiato, ho cento anni e ho visto tante cose che mi inducono ad essere per un verso pessimista, verso la natura umana, ma ottimista nel futuro del buono. Io dico ai ragazzi studiate la storia come Machiavelli insegnava, perché la storia maestra della vita, la storia vi riporta al passato e vi anticipa al futuro. E quando nelle scuole vi insegnano, ragionate sempre, non accettate i dogmi fissati da tradizioni, dall'autorevolezza di farla. Ragionate, applicate sempre la vostra mente, meditate prima di far assimilare l'insegnamento. Questo è il modesto, molto che io inculco a tutti i giovani che a volte mi chiedono istruzioni di vita, sentieri luminosi di un futuro che io m'auguro, prospero, felice per tutti nel segno indimenticabile della libertà, perché la libertà è il figgello massimo, la ricchezza indistruttibile. Possono portare via tutti i soldi, ma la vostra intimità, la vostra cultura, la vostra libertà non la tocca a nessuno. Viva la libertà!